Si parte con la psicoguerra, bella forte, Romeo, Boxtrot, sono aperte le dacce. Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni. Devo fare nomi e cognomi, Matteo Salvini, Buonasera, ehi lei ti è qui? Giorgia Meloni. Ma fatti gli affari tuoi, guardone. Giorgia Salvini, Matteo Meloni, Matteo Salvini, lei e suo figlio spacciate, Giorgia Meloni. E chi se ne frega? Parla con chiarezza. No, hai metodi stalinani. Attenzione, è una menzogna questa. Eurobond, Eurobond, si, gli Eurobond. Una potenza di fuoco mai vista, i famosi Eurobond. Sì, gli Eurobond. Per dare, per dare, per dare un senso a questo circo. Devo fare nomi e cognomi, Giorgia Meloni. Io sono il Caos. Matteo Salvini, sto parlando con un fantasma, mi puro. Bebe, 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 caos. Porto il rosario. Dammi una mano. Con Grano Salis, Matteo Salvini. Dammi dei consigli. Con coraggio, con determinazione e dignità. Secondo te cosa devo fare? Le falsità, le menzogne ci fanno male. Sei il nemico di Salvini. Insufficiente, totalmente inadeguato. Se ti facevo così schifo, potevi anche dirvelo in faccia. L'ho già dichiarato, questo governo non lavora col favore delle tenebre. For the gentlemen, vodka money, shaken nuts, don't. Attenzione. Famoso, eurobo. Si, eurobo. 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 Lo senti l'odore? Cosa? Lo siamo? Napalm, figliolo. Non c'è nient'altro al mondo che odora così.